Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Meno 3 per 8 fa meno 24, sopra fa 16 e dividendo tutto per 4 viene 4. Abbiamo trovato le coordinate del nostro punto di intersezione. Cantami dei numeri la serie, sino a che io oggi non la impari. Numeri, formule, equazioni, teoremi, studiare la matematica non è certo una passeggiata, ma la pesarese Monia Tomassini, appassionata della materia, ha ideato un metodo più diretto, al passo con i tempi, utilizzando le potenzialità e l'accessibilità della rete. Video lezioni pubblicate su TikTok, dove la 32enne, laureata in scienze matematiche, conta oltre 6.000 follower e ripetizioni online anche su YouTube, in un canale con più di 3.000 iscritti. Ho incominzato a leggere più libri, a fare dei corsi di yoga, di meditazione, a seguire dei corsi di inglese per migliorare la mia pronuncia. E poi ho detto, perché non fare io stessa dei corsi? E ho deciso di aprire il canale YouTube. Poi un giorno, parlando con un mio collega, mi disse, guarda che il social di riferimento è TikTok, devi assolutamente farlo. E ascoltai il suo consiglio. Da lì, boom pazzesco. Il giorno dopo apri TikTok e mi accorsi che il mio video aveva ricevuto più di 340.000 visualizzazioni. Se non sei ancora bravo in matematica, è perché ancora nessuno te lo ha insegnato. Questa per me è una verità assoluta. Ti aiuterò a capire come si svolgono tutti gli esercizi, dal più facile a più difficile. Ho preparato per te tanti video divisi per argomento e strutturati per tipologie di esercizio. I video di Monia spopolano in rete, ma nel suo futuro non c'è l'insegnamento di matematica in classe. No, in realtà una volta laureata ci avevo pensato, ma poi ho deciso di intraprendere un'altra strada. E anche per oggi è tutto.